Visto che era senza casa, decisi di ospitare Elliot per un po'. Com'è successo? J.D., non ho una casa, non ho soldi e tutto quello che possego è fuori su un furgone. La mia vita è un disastro. E poi, qualche problemino lo avevi anche tu. Il mio pipì si era fritto. Ma ora va molto meglio, grazie per l'aiuto. Eravamo entrambi vulnerabili e abbiamo fatto uno sbaglio. Quattro volte? E mezza, se conti anche l'ultima. A proposito, la terza volta. Wow! Ma dove l'hai imparata quella cosa? Che stai guardando, bello? Animal Planet. Perché quella scimmia morde l'altra sul sedere? Non lo so, ma ha l'aria di piacerle davvero molto. In Congo.